Ma magari malattie di sangue sentono quello anche. Che tipo di malattie? Da dove? Io verifico ogni sei mesi. No, dico, magari loro sentono che è buono, non è buono sangue. Allora forse se non mangi zucchero. No, dico, se non mangi zucchero magari loro non vengono a prendere. No, se mangi, prendo. Guarda. Adesso lavoriamo a spuntere, come si stai a combattere, mi piegge dentro della testa. Poi, non in mezzo a gollare o orte, o... Per frecce le preguntarie sono le levo. No si deve fare tanto le dei, deve lavorare come si deve. Do. Prendo, se andiamo. qua le ragazze e dentro rilassati e lo lasciati per prima un passo a dire con la spettura non no 1 3 resta a dire con il passo e il passo stip stai dove fai tre quattro due una somma due due tanto dopo ancora op op u Grazie. 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 Grazie.